ehi voi lassu dico a voi nuvoloni cosa dici? non sento volete smetterla di piovere? non sento aspetta sali non potreste andare a piovere da qualche altra parte? mi dispiace ma non possiamo muoverci da qui abbiamo un importante riunione allora me ne andro in un posto asciutto anzi asciuttissimo ciao aliante ciao bella mi porti nel deserto perchè? perchè la non piove ma il cielo è nuvoloso non ti preoccupare sopra le nuvole c'è il sole il prato è pieno di pozzanghere come faccio a prendere la rincorsa? ci penso io sono gli stivali di Armando e con questi andrà benissimo posso venire con voi? certo stiamo arrivando benvenuta straniera vuoi tu la guida? con molto piacere chi sei? il cammello camillo salta in grotto devo fare provista d'acqua perchè il deserto è asciutissimo bene andiamo sai che la tua gobba è proprio comoda è fatta a posto però che caldo che fa mettete questo in testa vuoi fare una cosa con me? con piacere dai via uno, due, tre via